Attimi di paura, sabato notte nel centro storico Aretino, un principio d'incendio si è sviluppato al Salabingo. È successo attorno alle due di notte, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e polizia municipale. È stata anche temporaneamente bloccata via Guadagnoli e i clienti sono subito usciti fuori, guidati ed accompagnati dal personale della struttura. I pompieri hanno lavorato a lungo per verificare esattamente le dimensioni dell'incendio. Il incendio è rimasto fortunatamente circoscritto mentre gli agenti della municipale hanno chiuso e presidiato la strada. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita nell'incendio.